bella a tutti ragazzi, rieccoci qua di ritorno su Deus Ex Machin Divided andiamo a vedere il trofeo coraggioso, dettaglio, sai cosa fare allora ragazzi, questo trofeo lo potete fare quando avrete attiva la missione M11 oppure dopo la M12, la M11 è quella di salvare Alisson Stanek e la M12 è quella di fare il colpo in banca avrete da decidere quale fare dei due, in tutti e due i casi voi potete fare questo trofeo dopo aver fatto la rapina in banca, Praga diventa tipo un open world potete andare lì alla chiesa del Dio Macchina e fare il trofeo allora, consiste di andare lì, andare nel cortile e fare il trofeo appunto adesso vediamo un po' come farlo andiamo a vedere dai allora, scendete andate dentro, andate fino in fondo dall'altra parte e se qua devo fermarmi un attimo col membro dalla setta ma ci ci ha rionati, va bene, andiamo avanti ok, usciamo dall'altra parte, il cortile, eccoci qua ecco, il trofeo consiste nel prendere la palla ragazzi e fare il canestro sembra facile ma non lo è in quanto il personaggio scaglia la palla molto veloce allora qua vi faccio vedere la posizione corretta da prendere per il trofeo ragazzi come punto a destra potete prendere la ruota e il cerchione e poi il puntino bianco al centro, lo vedete è proprio lì dove c'è il quadrato appena sotto la riga questa è la posizione corretta ragazzi buona fortuna, buon canestro ragazzi, alla prossima grazie a tutti